Credo di capire dal suo sguardo, Messione Kerr, che noi abbiamo importanti questioni da discutere. Gli stati generali del 1789 sono stati convocati per imporre nuove tasse e per pagare i debiti del re Luigi XVI. Confido che tutti e tre gli ordini qui presenti al mio cospetto collaboreranno per il bene di tutto lo Stato. Il terzo Stato, costituito da borghesi e commercianti, si riunisce in Assemblea Nazionale contro il clero e la novità. Ridotti alla fame, i parigini assaltano e conquistano la prigione della Bastille. I capi della rivoluzione sono Marat, Danton, Robespierre. Sire, Sire! Che cosa c'è? Sire, i parigini oggi hanno preso la Bastille. Hanno preso la Bastille? A che scopo? Cos'è? Una ribellione? No, Sire, una rivoluzione. Signori, vi prego di alzarvi in piedi. L'Assemblea abolisce tutti i vecchi diritti e privilegi e vota la dichiarazione dei diritti dell'uomo. Ma la fame stringe d'assedio Parigi e le donne marciano verso un palazzo reale. È iniziata la rivoluzione. Dopo la caduta della Bastille, le donne parigine occupano Versailles. L'Assemblea nazionale approva la Costituzione e dichiara la guerra ad Austria e Prussia a corse in difesa di Luigi XVI. Sire, un'altra rivoluzione. La folla assalta la regia. Il re è costretto a rifugiarsi presso l'Assemblea che lo sospende dalle sue funzioni e costituisce una convenzione nazionale. Il re e la sua famiglia si recano all'Assemblea nazionale. Vi chiedo, in nome dell'Assemblea, di rispettare le loro persone. di rispettare le loro persone. Grazie a tutti. 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 Quanto volete? Non lo avete ancora capito, vero? Forse non volete crederci. Qualunque cosa diciate ormai non conta più. Clary? Che fate qui? Che fate qui? Vostra maestà, io li ho implorati di poter restare con voi. Avete fatto più di quanto io abbia il diritto di chiedere a qualunque persona. Viva la libertà! Viva la libertà! Viva l'inizio! Viva l'inizio! Viva l'inizio! Viva la libertà! Viva l'inizio! Buonasera, Messiero Bespiari, in camera sua. Buonasera. Sono io, Brent. Non mordere. Maxime! Come fai a lavorare con tutto il chiasso che viene da fuori? Maxime, è tutto finito. Il re è stato sospeso dalle sue funzioni ed arrestato. Adesso c'è un consiglio provvisorio formato da sei ministri. E Danton è diventato ministro della giustizia. È tutto finito? Io non ne sono convinto. Ma potrebbe anche essere quell'inizio che stavamo aspettando. Fa freddo. Ho interrogato la mia coscienza, ma non mi è stato di nessun conforto. Mi è impossibile considerare legittimo questo governo. A Parigi sono stato denunciato come traditore per le mie opinioni. Io, Lafayette. Ebbene, se rifiutandomi di servire coloro che in un colpo solo hanno cancellato sia la corona che la Costituzione, se per questo, secondo voi, sono un traditore, è inutile lottare. Non reagirò nemmeno alle calugne. Partirò non avendo più motivo di restare. Quanto... Quanto a voi... È una questione che riguarda la vostra coscienza. non ho la pretesa di dirvi come comportarvi. Potete rinunciare o unirvi a me. Lascio a voi la scelta. Non ho la scelta. La faietta è disertata ed è fuggito in Austria, Sire. I prussiani hanno preso Longuine. Sembra che nessuno possa fermarli. In due settimane saranno a Parigi, Sire, e voi sarete libero. Voi non avete ben chiara la situazione. L'esercito è stato decimato dalle diserzioni. Non ce la faremo mai a fermare. La guerra non è ancora tortura. Soglie a resistere, convincere i soldati a non disertare. La città è in creda al patto. No! Questo governo non lascerà a Parigi. Questo governo non si nasconderà per la paura. Questo governo resterà qui a combattere e a vincere. Non mi importa come. Non mi importa quanto ci costerà. Ogni uomo valido, ogni fucile, ogni spada, ogni picca, ogni coltello da cucina e il primo che oserà pronunciare la parola paura si accorgerà di non averla finora mai provata. No! No! Se ci sono 30.000 traditori da arrestare, devono essere arrestati domani. Che volete da me? Per sconfiggere i nostri nemici, dobbiamo dimostrare coraggio. Coraggio e ancora coraggio. Solo così salveremo la Francia. Fabro, prendi queste condanne a morte e assicurati che vengano eseguite. Camille, voglio sapere da te perché non ho ancora ricevuto un rapporto dai commissari speciali di Lever e di tu. Ascoltatevi la grazia innocente, non potete ucciderlo. Io sono madre di cinque figli, è un eroe di guerra. Monsieur D'Anton, vengo da Lione, posso parlare? Tutto bene, vedremo. D'Anton, non mi riconoscete? Monsieur D'Anton. Oh, ma che carino che sei. Ma tu sei carina. Coraggio, amore, vieni. È ora di andare a letto. Così lasciamo anche in pace lo zio Maxime. Oh no, è così buono, così tranquillo. È divertente giocarci, sono carini. Da piccoli i primi mesi. Ah sì, certo, specialmente quando si svegliano piangendo all'una di notte. Alle tre, alle tre e mezzo, alle quattro. Ciao. Camille. Non dai il bacio della buonanotte a tuo figlio? Sì. Buonanotte figlio mio. So bene quello che provi, Camille. Ma non possiamo combattere una guerra con un secondo nemico alle nostre spalle. Ma è la nostra gente, il nostro popolo. No. Il nostro popolo è il primo a non volere che ritorni la vecchia Francia. La nostra gente sa che dobbiamo vincere questa guerra a qualunque costo. Il nostro popolo è un' creativo in cui vuoi c'è l'watchare. Alla the window Stanotte, i nemici che abbiamo tra noi sono esultanti. I prussiani hanno preso Verdun. Gli aristocratici, i preti, i traditori e i denatori chiusi nelle prigioni attendono con ansia l'arrivo delle truppe straniere. Sarà quello il segnale per sollevarsi e unirsi alle forze del re di Prussia per sopprimere la Repubblica e ucciderci tutti! Uccidiamo i traditori! Uccidiamoci giustizia! Alle cenne! Alle cenne! Forza gli aristocratici, forza i traditori, forza gli aristocratici! Uccidiamo i preti! Uccidiamo i preti! Stanno irrompendo in tutte le prigioni di Parigi. assassinano senza pietà chiunque sia solo sospettato di essere rimasto fedele al re. In nome di Dio, George, questa non è la rivoluzione. È il fallimento di tutti gli ideali per i quali abbiamo combattuto. Mi stai ascoltando o no? Sì, sì, ti ascolto Camille, ti ascolto. Bene, allora fa qualcosa! Fare cosa? Credi sia facile controllare quella marmaglia? O che ci sia qualcuno in grado di farlo? Ma sei tu il ministro, George! Sì, certo, il ministro. Vuoi che il ministro dia disposizioni che verranno ignorate? Dovrei far intervenire le truppe, che poi si ribelleranno partecipando insieme a tutti gli altri ai massacri. E questo è il tuo piano per mostrare al mondo chi comanda qui. Se questa non è una tua responsabilità, beh, allora non capisco di chi sia. Nemmeno io. Vedi, Camille, l'uomo saggio si rende conto di quando perde il potere e non lo grida ai quattro menti. Soprattutto quando vuole continuare ad essere ascoltato. Ed io lo voglio, credimi. Lo voglio. Ho un po' la mia. Ho un po' la mia. Ho un po' la mia. Ma non? Ho un po' la mia. Prendeteli! Duevi. Andate a morire. Oh, muro Dio. Che succede? Prendeteli. Aiuto! No! Mamma mia, state calmi. Non guardare a voi! A parte i traditori! A parte i nobili! Riva la confusione! Uno spettacolo ripugnante, Camille. Farei qualcosa perché tutto questo abbia fine. Rispondi. Non è così che doveva essere. È andato tutto male. Non è questo che volevamo. Dio benedica il re. Dio benedica il re. Dio benedica la mamma. Dio benedica la principessa dell'Ambal. Dio... benedica la principessa di l'Ambal. Dio benedica la principessa Elisabeth. Dio benedica la principessa Elisabeth. A letto ora. Su, dormi bene. Buonanotte. Elisabeth. Dove sei, maledetta austriaca? Hai perso il tuo raggio? Fatti vedere! Ma faccia di rigida! Vieni alla finestra! Elisabeth! C'è la tua amica qui! La principessa del Rambal! Do sei come lei! E sarai la prossima! Elisabeth! Sì, è vero. Quello che è accaduto è abominevole, infamante. Una vergogna per la rivoluzione e per tutti noi qui presenti. Ma stiamo combattendo una guerra. E tutti coloro che qui in Francia potrebbero cospirare e portarci alla sconfitta oggi sono uomini spaventati. Oggi possiamo dire di non avere più nemici alle spalle. E questo è un vantaggio che non permetterò che vada sprecato. Oggi le nostre truppe possono affrontare i prussiani senza temere reazioni da parte degli amici del re. Oggi le nostre truppe possono affrontare i amici del re. è un sv lacko di amici del re. Semb느� синèください. Vuffo. Ml Eliza! Vuffo. Vuffo. Pronti per la posizione di tiro? Pronti? Mettete i cannoni in posizione. Al mio comando, fuoco! Fuoco! Prima fila, puntare! Fuoco! Seconda fila! Fuoco! 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 Lunga vita alla nazione, lunga vita alla nazione Lunga vita alla nazione, lunga vita alla nazione Lunga vita alla nazione, lunga vita alla nazione Lunga vita alla nazione, lunga vita alla nazione, lunga vita alla nazione Lunga vita alla nazione, lunga vita alla nazione Lunga vita alla nazione, lunga vita alla nazione, lunga vita alla nazione 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 giù giocate con la palla a me tirala a me presa venite bambini venite qui dove c'è l'erba dammi la palla ecco tu mettiti qui e tu qui bravi siete pronti ho avuto brutte notizie una grande vittoria francese a balmy oddio no coraggio non è ancora detta l'ultima parola la nostra salvezza può non essere così imminente come avevamo sperato il giornale di aver il giornale di aver bevi anche tu sì grazie allora io ti osservo e ti ammiro ma sono anche preoccupato tu sei un capo e in questo momento se il capo della repubblica rivoluzionaria eppure istintivamente tendi a schierarti con alcuni degli elementi più moderati e conservatori della nuova convenzione e comprensibile naturalmente come mirabeu era solito dire la cosa più difficile non è iniziare una rivoluzione ma riconoscere quando è il momento di porvi un freno e con ciò nel momento in cui le forze ognuno di noi poi tenta di trovare un certo equilibrio in tutta franchezza giorge come tuo estimatore e come tuo amico devo metterti in guardia sei diventato ricco sei potente e sei anche popolare una combinazione molto pericolosa di questi tempi i ricchi temono il tuo potere la tua popolarità e proveranno a scalzarti con ogni mezzo i poveri d'altro canto ti perdoneranno la ricchezza ma solamente se tu li aiuterai a spingere la rivoluzione verso la sua naturale e giusta conclusione e questa naturale e giusta conclusione quale sarebbe la morte del re forse è questo che vuoi vedere non desidero che sia fatto del male al re o la sua famiglia non sarebbe vantaggioso per nessuno d'altro canto la guerra non è ancora finita può darsi che si arrivi a un punto in cui risulterà impossibile salvare entrambi il re e la rivoluzione di fronte a un tale dilemma dovremo prendere una decisione e noi dobbiamo sapere fin da questo momento quale sarà la scelta da compiere non sei d'accordo il tuo cappello grazie buonanotte george buonanotte qualcosa che non va ha ragione ha sempre ragione ma non so perché ogni tanto sento l'impulso di rompergli il collo ma non temere non lo farò a meno che non mi sia costretto chiedo la parola chiedo la parola presidente vi dispiace ricordarmi il vostro nome cittadino mi chiamo san giust rappresento il dipartimento dell'esna salite pure sulla tribuna cittadino san giust cittadini cittadini io sono uno che come molti di voi sarebbe felice di sacrificare la sua vita per questa repubblica io sono uno che come molti di voi affronterebbe ed affronterà qualsiasi nemico osi minacciare questa repubblica io sono uno che come tutti voi conosce bene sia il nome che il volto di questo nemico io sono uno che a differenza di tutti voi ha il coraggio di affermare che cosa bisogna fare per riuscire a sconfiggere questo nemico il fatto che l'ex re luigi capeto rimanga in vita rappresenta motivo di coesione per i traditori per i vigliacchi che tuttora si annidano in mezzo a noi e per il nemico alla frontiera che attende di schiacciarci in nome di tutto quello che abbiamo conquistato combattendo non possiamo essere deboli non possiamo esitare ancora ma debolezza ed esitazione sono tutto ciò che mostriamo intanto l'erede di una lunga dinastia di tiranni nonché padre di molti altri è vivo e vegeto anche se in nostro potere cittadini un re non è un uomo come gli altri è una sorta di ribelle un usurpatore dei diritti degli altri uomini cittadini un re deve regnare o morire grazie 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 E allora il duca gli disse... Che gli disse? Lo sai? Scusatemi. Il bambino. Mandatelo via. Posso sapere perché, almeno? Questi membri della convenzione sono venuti a parlarvi. Vai, continueremo più tardi. Clary. Ebbene, cosa posso fare per voi? Mi chiamo Chambon, sono sindaco di Parigi. È mio dovere informarvi che la convenzione ha deciso di sottoporvi a un processo. Capisco. E con quale accusa? L'accusa vi sarà resa nota a tempo debito e nella giusta sede. Vi sarà data l'opportunità di scegliervi un avvocato. Ma durante il processo e per tutto il tempo che lo precede, non vi sarà permessa alcuna comunicazione con gli altri membri della vostra famiglia. Spero che non mi negherete anche il diritto di vedere i miei figli. Se proprio insistete vi sarà concesso di vederli. Ma vi avverto che in tal caso verrà loro proibito ogni contatto con la madre o con la zia. È una scelta difficile e crudele. Anzi, non è affatto una scelta. E sia come volete. Ne avete preso ogni cosa. Perciò è del tutto naturale che ora mi portiate via anche i figli. Sono in vostro potere, purtroppo. Ditemi soltanto che volete da me. Allora... Allora... Sedetevi. La Convenzione nazionale, in virtù della sovranità che le deriva dal popolo francese, accusa Luigi Capeto, già re di Francia, dei seguenti crimini contro la nazione. Primo, in combutta con il traditore Lafayette, Luigi Capeto ordinò il massacro dei cittadini al campo di Marte. Poco dopo il vostro ritorno da Varenne, il sangue di tanti cittadini fu versato al campo di Marte. Esiste una lettera che dimostra l'esistenza di una cospirazione criminosa tra voi e Lafayette. Che cosa avete da dire? Non sapevo niente dell'incrasciosa vicenda consumatasi al campo di Marte. In merito alla lettera a cui accennate, io non l'ho mai vista. Non ne conosco nemmeno il contenuto. Eppure è di vostro pugno. Non ricordo assolutamente di averla scritta. Non è possibile, ma come può mentire così? I vostri fratelli, gli nemici dello Stato, hanno riunito gli emigrati sotto le loro bandiere. E insieme sono ora in guerra contro la Francia. Voi non li avete rinegati. Ma certo che l'ho fatto. Ho rinnegato tutte le azioni compiute dai miei fratelli. Le ho rinnegate subito, pubblicamente, appena ne sono stato informato. Non prima di esservi assicurato che non avreste nuociuto in alcun modo i loro piani. Voi avete diritto alle vostre opinioni. Si difende bene, però. È stato provato che avete chiesto ai reggimenti che difendevano il nostro paese di deporre le armi. No, mai. No, questo è falso. Avete usato il vostro veto per bloccare il decreto contro i preti refrattari. Sì, è vero, ma ne avevo tutto il diritto, secondo la Costituzione. Perché avete raddoppiato la Guardia Svizzera alle Tuilerie all'inizio di agosto? Perché esisteva il pericolo che il Palazzo Reale venisse attaccato. Ero stato legalmente investito dalla necessaria autorità ed era mio preciso dovere prendere adeguate misure difensive. No, il 10 agosto voi avete causato spargimento di sangue francese. Non è vero. Questa accusa non l'accetto. Avevate riposti gli segreti nel palazzo. Sa di non avere alcuna speranza, ma mostra grande coraggio. Lo ammino, lo sappiamo. Prendetelo presto. Cosa dice? Leggete. Che sta bene. Che il suo processo per ora procede a rilento. E dice di non sperare troppo. Di non illuderci. Voi che ne pensate? Io non credo che possa salvarsi troppi capi d'accusa. Finirà per essere ghigliottino. La moneta? Quince. Quince. No, non avete perso. Luigi Capito. Abbiamo ascoltato l'appello alla clemenza del vostro avvocato. Prima che la sentenza venga emessa, avete nulla da aggiungere a vostra difesa? Sì, signore. Ho qualcosa da dire. Questa potrebbe essere l'ultima volta che io mi rivolgo a voi. Io dichiaro in tutta onestà di non avere nulla sulla coscienza. Ma ciò che veramente mi addolora, più di ogni altra cosa, è l'accusa di aver versato il sangue dai miei sudditi. Anche se nessuno vorrà credermi, io ho amato il mio popolo. Ero così convinto di avergli dato abbastanza prove di questo mio amore che non mi sarei mai aspettato di dovermi difendere dalle tante e gravi accuse che mi sono state rivolte in questa sede. Non c'è altro, signori. È tutto quello che avevo da dire. Commetto che lo assolverà. Non ha speranza, hanno già deciso di cosa andare. In conformità al principio secondo il quale tutti gli uomini sono uguali di fronte alla legge, voto per la pena capitale. Colo d'Erbois. A morte. Da eseguire entro 24 ore. Vernio. Morte. Ma propongo che la condanna venga sospesa. A quale sospensione? A cosa ascoltate? A morte! Vinde. Secondo me, chi esita o si fa influenzare non merita di chiamarsi repubblicano. Giusto! Condanna a morte. Mara. Morte. Saint-Just. La Repubblica non deve mostrare alcuna debolezza. Morte. Brissot. Morte. Con sospensione della sentenza. Ambasso! 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 Silenzio! Robespierre. Poiché provo compassione per gli oppressi, non posso averne alcuna per gli oppressori. Morte. Demoulin. Voto anch'io per la condanna. D'Anton! Morte. Et ne nos inducas in tentazione, se delibera nos a malo. Amen. Amen. Pregate a Dio di sostenermi fino alla fine. Andiamo. Sono pronto. Ambasso! Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. come avrai. a tutti. a tutti. ... 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 ...... ...... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... ... ... ... ...... ...... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... ...... ... A presto, a presto! 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 Silenzio! 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 Io voglio sperare che ora i nostri colleghi non temano più per la propria libertà. Poco fa sono usciti incontro al popolo e avranno visto che il popolo non vuole far loro del male. E questo che significa allora? Il popolo di Parigi ha denunciato 22 traditori che ora sono seduti qui in mezzo a noi. Io chiedo il loro immediato arresto. Qualcuno porti a cutone un bicchiere di sangue. Mi sembra che abbia una certa sete. Cittadino presidente, vedo qui in aula Chomet e Debert in rappresentanza della comune di Parigi. È doveroso che questa convenzione mostri il loro rispetto e piena attenzione. Io li invito a rendere noti alla convenzione i nomi di coloro che sono stati denunciati. Maledetto ipocrita! Proprio tu! Osi dire queste parole! Io propongo che questa lista venga letta senza altri induti. e che si decreti immediatamente l'arresto di coloro che vi sono nominati. Che cosa aspetti a leggere, cittadino presidente? Leggere! Volevo sapere chi sono i direttori! Leggere! Chi sono i direttori! Leggere! Lo vogliamo sapere! Leggere! Leggere i nomi! Barbarù! Barbarù! Processiamoli! Bertrò! Pirotò! Gualò! Brissò! Eurot! Pug! Jean-Baut! Gardier! Cansonet! Com'è? Corsa! A morte! Abbasso la gironda! A morte i girondini! A morte! Abbasso la gironda! A morte! Abbasso la gironda! La girondenza di cittadini onesti e assennati non insorga e non riprenda il potere nelle proprie mani, prima che sia troppo tardi! Questa è la vostra stanza. Grazie. Buonanotte. Buonanotte! 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 Grazie a tutti. Andate a vedere chi è. Che cosa volete? Sono Charlotte Cordè, devo parlare con Marat. Adesso non è possibile, è ammalato, non riceve nessuno. Ho fatto un lungo viaggio, vengo da Cannes. Ho importanti informazioni sui girondini e sui loro piani, devo vederlo assolutamente. Ve l'ho già detto, è ammalato, non riceve. Cosa c'è, Simone? Niente, è una donna appena arrivata da Cannes. Dice di avere delle informazioni sui girondini. Falle entrare. È molto debole, non trattenetevi più di cinque minuti. Non temete. Entrate. Siete appena arrivata da Cannes? Sì. Ho notizie molto importanti. Quanti deputati federalisti si sono rifugiati a Cannes? Diciotto. Ecco i loro nomi. Rirou, Dalme, Mel, Spongano. Bene. Saranno morti ben presto. In quest'urna di pietra c'è il cuore del grande Marat. resterà qui per sempre, in sua memoria. È il cuore di un grande uomo. Un cuore che ha saputo infondere paura in tutti i traditori. Ed è stata la mano di una traditrice a strapparlo malvagiamente all'amore del suo popolo. Ma ora io prometto a voi, suo popolo, suoi amici, che la causa per cui ha combattuto continuerà a vivere. Ho richiesto personalmente alla Convenzione l'istituzione di pubblici granai nei quali immagazzinare ingenti scorte di grano per difenderci dagli speculatori e da tutti coloro che affamano il popolo per trarne profitto. Congratulazioni, Maximile. Da te le apprezzo di più. Grazie. Di niente. Complimenti, Maximile. Vedo che la prendi con molta calma. Francamente sono felice di essere fuori dal Comitato di Salute Pubblica quanto lo sono loro di essersi liberati di me. Ora tocca a lui. È più bravo di me a sopportare le continue seccature. Va bene, ma cosa farai adesso? Andrò a pescare. Ecco che farò. Avrei dovuto farlo già da un pezzo. Ma dopo tornerai? No, a meno che non vi sia costretto. Vieni pure a trovarmi. Contaci. Se ne va. Maximo, dobbiamo rientrare. Sì. Vieni pure a trovarmi. Vieni pure a trovarmi. Fate entrare l'imputata. Silenzio. Potete seder. Dite il vostro nome, cognome, età, condizione sociale e luogo di nascita. Mi chiamo Maria Antonietta d'Asburgo Lorena. Sono austriaca. Devo compiere 38 anni. Sono la vedova del re di Francia. Ho avuto i Natali a Vienna. Il mio domicilio è... Il mio domicilio è... Al momento del mio arresto mi trovavo nell'aula dell'Assemblea nazionale. Cancelliere del Tribunale, leggete l'atto di accusa. È ormai risaputo che come Messalina, Brunilde, Fredegonda e Caterina de' Medici, anch'esse conosciute come donne infami del passato, Maria Antonietta, vedova di Luigi Capeto, durante la sua lunga permanenza in Francia, è stata un flagello e una vampira assetata del sangue del popolo francese. E' noto altresì che ella ha avuto contatti politici con l'individuo che porta il nome di re di Bohemia e di Ungheria, in netto contrasto con gli interessi nazionali della Francia, e che in combutta con i fratelli del defunto re e con l'infame desecrabile Calon ha dissanguato le finanze della Francia, ha inviato milioni all'imperatore per aiutarlo a proseguire la guerra contro la Repubblica, ha intrattenuto una fitta corrispondenza segreta con potenze straniere allo scopo di sovvertire... Chi è stato a procurarvi la carrozza con cui siete partita per Varenne con la vostra famiglia? Uno straniero. Di che nazionalità? Svedese. Era forse un certo de Fersen che viveva in Rue du Bac a Parigi? Sì. Non ho sentito. Sì. Fate entrare il testimone Ebert. Il vostro nome, cognome, età e condizione sociale. Ebert, Jacques René, 36 anni, giornalista, sostituto procuratore della Comune di Parigi. Giorate davanti alla nazione e all'umanità intera di testimoniare senza odio e senza paura. Giorate di dire tutta la verità e nient'altro che la verità. Sì, lo giuro. Fate la vostra deposizione. I fatti che ho da sottoporre a questa corte rivoluzionaria sono di gatura molto delicata, ma devono essere resi pubblici. Come è noto, la Comune, desiderosa che il giovane Capeto ricevesse un'educazione adeguata da repubblicano, lo ha affidato alle cure di un eccellente patriota, di professione calzolaio, il cittadino Simon. Abbiamo una deposizione nella quale Simon dichiara di aver sorpreso il ragazzo mentre era intento a pratiche indecenti e nocive alla sua salute. Simon gli ha chiesto chi gli avesse insegnato quel comportamento immorale e il bambino gli ha risposto che erano state sua madre e sua zia. Silenzio! Continuate la testimonianza. Dalla dichiarazione resa poi dal giovane Capeto in presenza del sindaco di Parigi e del procuratore della Comune, appare evidente che le due donne in questione lo hanno spesso costretto a dormire a letto con loro e che là, in quel letto, venivano commessi atti della più orrenda depravazione. Che non è un po' di puttane! 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 Imputata, come rispondete a questa accusa? Non intendo rispondere. Si stai comprando! Puttane! Non intendo rispondere! Perché la natura stessa si ribella di fronte a un'accusa così insensata! Io mi appello a tutte le madri che sono qui! Io mi appello a voi! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci! Ah, era ora! Cittadino! Ditemi, cittadina! Ho molta sete! Sarebbe possibile avere un bicchiere d'acqua? Sì, certo! Grazie! Portate dentro l'austriaca! Invito il pubblico alla calma e al silenzio. La legge proibisce qualsiasi manifestazione di approvazione o di disapprovazione. Qualunque crimine una persona abbia commesso, la legge deve seguire il soccorso in modo imparziale e senza indebite influenze. Restate in piedi! Antonietta! La giuria, dopo attenta consultazione, ha risposto sì a tutte le domande che le erano state poste. Invito il pubblico ministero a parlare. Domando a questa Corte che l'imputata venga condannata a morte. In conformità all'articolo della prima sezione del codice penale e in conformità all'articolo 11 della prima sezione della seconda parte del codice medesimo. Antonietta, avete obiezioni in merito all'applicazione delle leggi citate dal pubblico ministero? La Corte, ascoltato il verdetto unanime della giuria, condanna la suddetta Maria Antonietta degli Asburgo Lorena, vedova di Luigi Capeto, alla pena di morte e ordina, su richiesta del pubblico ministero, che la presente sentenza venga eseguita nella piazza della rivoluzione e che venga stampata e affissa in ogni parte del territorio della Repubblica. Che ore sono? Le otto del mattino. Oramai staranno per arrivare. Cittadini, dovrei cambiarmi. Volete usarmi la gentilezza di andare fuori? Sapete che non ci è consentito di allontanarci. Non guarderemo. Grazie. 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 Grazie Rosalie, grazie di tutto. È giunta l'ora, cittadini. Grazie. 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 Grazie.